del Consejo de Ministros della Repubblica Italiana, eccellentissimo signor Matteo Renzi, e lo invito a dirigirsi all'Assemblea General. Signor Presidente, Eccellenze, distinti colleghi, signore e signori, porto in questa sala con orgoglio e gratitudine la voce del popolo italiano, un popolo generoso e responsabile, la voce di un popolo che ogni giorno si impegna nel salvataggio di centinaia di fratelli e sorelle nel cuore del Mediterraneo. Quest'Aula esige pensieri profondi, non messaggi spot. In ogni parte del mondo la vita politica è sempre più appiattita sul presente, è sempre più legata a discussioni guidate dalle televisioni dell'informazione 24 ore su 24, da Internet, dai social network. Vorrei essere chiaro, appartengo alla generazione che ritiene la rete e i social network uno straordinario orizzonte di libertà, uno straordinario strumento che consente di cambiare vite e prospettive. Ma il rischio è quello di ridurre l'orizzonte della discussione solo al sondaggio, solo al tweet. Credo che sia giusto rifiutare la dittatura dell'istante e provare ad onorare questa sala tentando per un momento di avere un pensiero più lungo, più ampio. E penso al mio Paese, che su una carta geografica vi appare con la forma di un ponte, un ponte tra il nord e il sud, un ponte tra l'Europa e l'Africa, un ponte tra l'est e l'ovest, proteso tra il Medio Oriente e i Balcani. Proprio per questa ragione geografica, prima ancora che culturale, l'Italia è da sempre un laboratorio straordinario, attraversato da esperienze di ogni genere. Ed è questa la ragione per la quale siamo stati i primi in Europa a cogliere la dimensione epocale di quello che stava avvenendo nel Mediterraneo. Dal primo giorno abbiamo detto, anche in questa sala, lo scorso anno, la questione dei rifugiati non è una questione di numeri. Il problema della migrazione non è un problema organizzativo di numeri. Il problema è la paura. La paura che attraversa le nostre società è che dobbiamo prendere sul serio se vogliamo che sia sconfitta. Nella mitologia greca, Phobos era il dio della paura ed era in grado di paralizzare i migliori eserciti, di far perdere anche le battaglie che sembravano facili. Per questo, la gloriosa e antica città di Sparta aveva eretto un grande tempio a Phobos e faceva di tutto per conciliarsene i favori. L'Europa è nata per sconfiggere la paura, per sostituirla con l'ideale del coraggio e della pace, della cooperazione e della civiltà. E per moltissimo tempo l'Europa è stata questo. Negli ultimi 70 anni il nostro continente si è lasciato alle spalle secoli di guerre civili. L'Europa è stato un miracolo. E per chi come me ha assistito da giovane al crollo del muro di Berlino e ha trovato in quell'evento una delle ragioni per impegnarsi in politica l'idea oggi di veder sorgere nuovi muri è intollerabile. L'Europa è nata per abbattere quei muri, non per costruirli. Per questa ragione l'Italia è in prima linea nel salvataggio di migliaia di migranti che fuggono dalla guerra e dalla disperazione. E per questa ragione ho avuto il privilegio di accompagnare il segretario generale Ban Ki-moon su una delle nostre unità navali che partecipano alle operazioni di soccorso. Affrontare i flussi migratori richiede la capacità di una strategia complessiva, globale. L'Italia è particolarmente impegnata in un rapporto di partnership con i Paesi africani attraverso una vasta serie di iniziative, in particolar modo con l'Unione africana. Come ho avuto modo di dire a Di Sabeba durante un recente summit organizzato proprio dalle Nazioni Unite. Ma domandiamoci, cari colleghi, signor Presidente, cari colleghi, a settant'anni dalla carta di San Francisco l'organizzazione delle Nazioni Unite ha oggi la consapevolezza di quanto è cruciale il proprio ruolo, ha la saggezza per riconoscere i propri errori e la forza per correggerli scrivendo una pagina nuova assicurando un futuro migliore ai vostri e miei figli. Credo che occorra uno sforzo da parte di tutti e l'Italia non si tira indietro. Per questo motivo abbiamo scelto di presentare la nostra candidatura al Consiglio di Sicurezza per un seggio non permanente con il motto Costruire la pace di domani. Lo facciamo pensando che sia compito di ciascuno di noi oggi qui fare uno sforzo per costruire un'alternativa alla cultura della violenza e del nichilismo perché nuove crisi colpiscono il Mediterraneo e il Medio Oriente l'Europa il confine dell'Europa penso innanzitutto al consolidamento del cessato del fuoco in Ucraina penso alla grande gioia con cui abbiamo accolto la notizia dell'accordo tra Stati Uniti e Cuba che ha una portata storica straordinaria penso alle speranze che ciascuno di noi ripone nell'accordo con l'Iran sul programma nucleare per aprire una fase di speranza e mentre ci sentiamo impegnati per l'implementazione dell'accordo ribadiamo con forza il diritto all'esistenza del popolo e dello Stato di Israele solo nel dialogo e negoziato possiamo trovare il futuro per le nuove generazioni e non c'è alternative al dialogo anche nella delicata questione israeliano-palestinese essenziale lo diciamo da qui tornare al negoziato con l'obiettivo di giungere alla soluzione dei due Stati che vivano fianco a fianco in pace e sicurezza questa Assemblea Generale è stata caratterizzata da grandi discussioni sulla Siria abbiamo tutti noi preso atto e toccato con mano il fallimento di anni di inerzia noi pensiamo che l'unica via di uscita sia restituire la parola alla politica attraverso un processo che porti finalmente alla reale transizione ma tutto questo sta insieme se abbiamo il coraggio di guardare in faccia la realtà e di vedere che mai come in questo momento un nemico pericoloso sta alle nostre porte Daesh il nemico del terrorismo e dell'estremismo attraverso i carabinieri fondamentali in Italia e nel mondo siamo fieri di essere il paese leader della coalizione per l'addestramento delle forze di polizia in Iraq sappiamo che il lavoro delle forze di sicurezza è determinante per garantire la quotidianità la possibilità per una famiglia di tornare a casa per una donna per una mamma di dare serenità ai propri figli continueremo inoltre con la coalizione in particolar modo con gli Stati Uniti d'America e con l'Arabia Saudita il nostro ruolo guida all'interno del gruppo di lavoro di contrasto al finanziamento di Daesh e allo stesso tempo sottolineiamo come Daesh non sia limitato a quella regione che pure costituisce uno straordinario mosaico di pluralismo e di bellezza ma rischia di affermarsi con forza in Africa partendo dalla Libia rinnovo da questo podio l'appello a tutte le parti che in Libia aspirano a una pace legata ad una nazione unitaria a unire gli sforzi i fratelli libici devono sapere che non sono soli che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite non si è dimenticata di loro e l'Italia è pronta a collaborare con un governo di unità nazionale e a riprendere la cooperazione in settori chiavi per ridare alla Libia un futuro se il nuovo governo libico ce lo chiederà l'Italia è pronta ad assumere il ruolo guida in un meccanismo per l'assistenza alla stabilizzazione del Paese autorizzato dalla comunità internazionale signore e signori signor Presidente ma il nostro ruolo nella lotta al terrorismo ha molte ragioni d'essere è innanzitutto una battaglia di valori è una battaglia di cultura i terroristi vogliono farci morire e non riuscendovi vogliono farci vivere come piace a loro ecco perché la battaglia che stiamo conducendo è una battaglia contro l'oscurità e la paura perché la paura è il campo da gioco dei terroristi è il primo settore nel quale questo emerge è il settore della cultura quando i terroristi attaccano Palmira o il Museo del Bardo o una scuola o un'università dall'Asia all'Africa non stanno attaccando il passato stanno prendendo di mira il nostro futuro l'Italia è il paese dove è iniziata la cultura della conservazione dei beni culturali noi fieri delle nostre radici del nostro rinascimento abbiamo la più alta concentrazione al mondo di siti dell'UNESCO ecco perché ci candidiamo insieme a tutti i paesi partner e amici ad essere custodi della cultura nel mondo portando avanti azioni concrete sia da qui a New York City sia a Parigi con l'UNESCO attraverso United for Heritage i caschi blu della cultura sulla base di un modello che abbiamo sviluppato in casa nostra proponiamo di istituire una task force internazionale con membri militari e civili per operazione di tutela e ricostruzione dei siti storico-artistici perché qui sta la nostra identità tale task force sarà a disposizione dell'UNESCO e potrà essere schierata nel quadro delle missioni di pace delle Nazioni Unite non dimentichiamo che anche la nostra Europa corre il rischio in mancanza di un grande progetto educativo di veder crescere in casa propria il seme malvagio del terrorismo non dimentichiamo che ciò che è accaduto in questi mesi e in queste settimane da Charlie Hebdo a Parigi fino al Belgio alla Danimarca vede la presenza di donne e uomini nati in paesi europei cresciuti in paesi europei educati in paesi europei e trasformati in terroristi contro i diritti dell'uomo contro la ragione stessa di esistenza del nostro continente credo che sia dunque importante che questa sfida educativa sia vinta tutti insieme e che contemporaneamente il nostro modello di peacekeeping a cui ieri ci ha richiamato il Presidente Obama a cui va la nostra gratitudine sia un modello affermato come sta avvenendo in questo momento in Afghanistan voglio ricordare l'impegno dell'Italia e fare onore alle donne e gli uomini che sono caduti per la nostra sicurezza collettivi in particolar modo in quel paese siamo fieri del lavoro dei nostri militari e dei nostri civili per sostenere il governo afgano in un cammino di pace e di prosperità Signor Presidente il Consiglio di Sicurezza è al centro di questa sfida non è un fatto burocratico è un fatto politico il gruppo Uniting for Consensus è disposto a continuare ad impegnarsi con tutti i membri e i diritti umani che oggi sono sotto attacco costituiscono per noi il punto di riferimento a tutti i livelli penso alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza Donne, Pace e Sicurezza penso alla risoluzione adottata dall'Assemblea Generale nel dicembre scorso sulla moratoria della pena di morte impegno sul quale non ci stancheremo di lavorare riprendendo anche le parole che il Santo Padre Papa Francesco ha avuto qui e nella sede del Congresso degli Stati Uniti contro le risoluzioni contro i matrimoni precoci e forzati e le risoluzioni contro le mutiliazioni genitali femminili segnali espliciti di un impegno comune di questa comunità il profondo legame tra la pace e la sicurezza tra i diritti umani e lo sviluppo signor Presidente proviene anche dall'esposizione universale di Milano Expo 2015 ha un motto nutrire il pianeta energia per la vita un messaggio che incrocia molte delle attese di questa assemblea la promozione di un'agricoltura sostenibile e voglio prendere qui un impegno soprattutto con i paesi africani noi non cesseremo di lavorare in questa direzione forti del know-how italiano e della volontà di collaborare insieme la garanzia dell'accesso al cibo per tutti la lotta alla fame nel mondo il cambiamento dei modelli di consumo la centralità delle donne come attori centrali nell'agricoltura la difesa dei diritti dei piccoli agricoltori ma anche la prevenzione di tensioni e conflitti causati dal degrado delle terre coltivabili e dalla scarsità di acqua per l'agricoltura questi temi non sono temi di serie B non sono temi di secondo livello l'eredità di Expo Milano è assicurata dalla carta di Milano e dall'impegno di ciascuno di noi nel cambiamento climatico l'Italia al fianco dello sforzo del segretario generale Ban Ki-moon mobilitandosi perché la conferenza di Lima e poi di Parigi abbia successo signor Presidente con l'adozione dell'agenda 2030 l'Italia accetta la sfida delle 5 P People Prosperity Partnership Planet and Peace le 5 P che riconoscono e ispirano la nostra azione per il futuro ma lasciatemi dire che l'Italia vuole contribuire con forza in particolar modo in quelle battaglie in cui alcuni paesi sembrano soli daremo il benvenuto nelle prossime settimane a Milano ai nostri partner stati insulari in via di sviluppo considerati piccoli stati ma in realtà grandi stati per il loro valore per l'evento sull'adattamento climatico che si terrà a metà ottobre e porteremo una folta delegazione a Venezia dove mostreremo in una delle più belle città d'arti del mondo come lavoriamo contro i rischi legati alla presenza di acqua alta e alla presenza alla scarsità di attenzione da parte della comunità internazionale su questo ho finito signor Presidente come candidati a un seggio non permanente l'Italia vuole che questi valori siano centrali nel Consiglio di Sicurezza ma vorrei che noi non pensassimo a questi valori in modo astratto vorrei che noi non dimenticassimo che quello che ci porta qui non è un documento è un volto sono i volti nelle scuole italiane i nostri bambini imparano a conoscere il forte legame che esisteva tra le antiche civiltà nel Mediterraneo in Africa in Medio Oriente oggi quei bambini non sono delle comparse sono la ragione per la quale ci impegniamo e credo che di tutti i valori che insegniamo nelle nostre scuole non possiamo dimenticare il fatto che il primo valore sia la vita tanti di noi si sono commossi quest'estate di fronte alla crisi dei migranti per l'immagine di un piccolo bambino il suo nome era Aylan quel bambino di Cobane che si è addormentato assieme al suo fratellino senza poter vedere il futuro e che è stato ripreso ucciso sulla spiaggia di Bodrum vorrei che ciascuno di noi non limitasse il suo impegno alla commozione all'emozione del momento e che tenesse in mente quella immagine per cercare di fare del proprio meglio tanti bambini sono morti nel cuore del Mediterraneo sono morti nelle navi che i trafficanti i nuovi schiavisti hanno lanciato contro l'Europa ma per tanti di quei bambini che non ci sono più voglio ricordare dei nomi di cui non parla nessuno Iambambi Salvatore Idris Ibrahim Francesca Marina sono alcune e alcuni dei bambini nati a bordo delle navi della Marina Militare italiana e della Guardia Costiera che hanno salvato migliaia di donne e in alcuni casi hanno permesso a quelle donne di dare alla luce un figlio proprio sulla nave grazie al lavoro straordinario di miei connazionali di cui sono orgoglioso bene vorrei che questi nomi fossero insieme ai nomi di chi non ce l'ha fatta come monito per ciascuno di noi perché la politica recuperi dignità perché questa assemblea sia consapevole della grandezza della sfida ma anche perché l'Europa la vecchia Europa nata in nome del coraggio non ceda alla paura l'Italia farà orgogliosamente la propria parte grazie